bentornati amiche oggi spiegherò il terzo otto della coreografia enchantix non perdiamo altro tempo vi ricordate eravamo in questa posizione adesso tiriamo giù le braccia e cambiamo la gamba tiro su le braccia in questo modo e piccolo batman con gamba destra avanti 1 2 e 3 al terzo incrocio le gambe in questo modo e piccolo soutenu è semplicissimo rispiego di nuovo da questa posizione porto giù le braccia e cambio gamba sulle braccia è 1 2 3 giro e voilà adesso riproviamo con la musica tutta l'intera coreografia vai con la musica ecco fatto voi continuate a ripetere e la prossima puntata spiegherò gli altri otto ciao alla prossima buonanissima